amici bentonati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi siamo in compagnia di una young timer sono delle diciamo delle vetture la cui produzione va dai 20 ai 30 anni quindi non sono macchine storiche a tutti gli effetti per la macchina storica va dai 30 anni in su ma sono macchine di interesse storico che piano piano entreranno poi sono già entrate nel mondo del collezionismo ma si posizionano con appunto vincoli normativi e con come dire delle differenze rispetto alle vetture storiche oltre i 30 anni quindi su queste vetture qua noi consigliamo sempre di fare questo crs che il certificato di rilevanza storica in maniera tale da avere diciamo una macchina con delle degli upgrade in più per poter circolare perché adesso a milano purtroppo le normative sono diventa diventeranno e sono sempre più restrittive quindi il fatto di avere la macchina col certificato crs non consente di andare in giro liberamente tutti i giorni ma comunque consente di utilizzarla molto di più che non avere una macchina dove non si può fare il dove uno non fa il crs e poi uno volendo una macchina come questa che è perfetta perché devo dire di z3 ne abbiamo viste tante ma in queste condizioni raramente il cliente può optare anche per fare la famosa targa oro che dà anche un valore in più a livello proprio di come dire di garanzia sul fatto che la macchina è perfetta è perfettamente coeva al suo periodo questa bmw qua una z3 motore 1.9 la facevano 1.8 e 1.9 16 valve il 1.8 non era un gran motore diciamo che per essere bmw era un motore abbastanza fiacco il 1.9 aveva qualche cavallo in più mi sembra che questa qua avesse se non mi ricordo male 136 cavalli 135 cavalli quindi già qualcosina in più non era un mostro di diciamo di potenza comunque qualcosa in più del 1.8 ce l'aveva sicuramente era coeva appunto alle più famose bmw e 36 tanto per inquadrare il periodo queste macchine qui cioè in maniera particolare la z3 che hanno fatto per la stragrande maggioranza veniva prodotta negli stati uniti lo stabilimento di spatenburg ricordo ai tempi in pennsylvania e veniva prodotta sia in versione coupé come questa la stragrande maggioranza erano coupé cabrio perdon e la stragrande maggioranza appunto erano cabbia sia un ristretto numero anche in versione coupé i motori partivano appunto dal 1.8 che poi hanno abbandonato è stato sostituito dal 1.9 poi hanno fatto il 2.000 il 2.800 tutti aspirati ovviamente e poi hanno fatto in piccola serie il 3.2 marchiato a m e quelle sono diciamo molto più quotate anche molto più difficili a trovare perché ne hanno fatte veramente poche era una macchina che era destinata prevalentemente al mercato americano comunque anche in italia ha avuto un grosso successo diciamo che la concorrente più diretta ai tempi era la mazda la mx 5 la miata insomma tanto per intenderci quindi un cuperino spiderino due posti secchi direi assolutamente perfetto non eccessivamente costoso quindi macchina assolutamente idonea per essere usata tutti i giorni venendo nello specifico a questa macchina direi che questa è stata diciamo curata dal cliente è una macchina che ha relativamente pochi chilometri perché ha 71.000 erotti chilometri quindi per essere una macchina che ha più di 20 anni già è un chilometraggio raro diciamo così da un punto di vista meccanico la macchina si presenta in maniera perfetta e sono stati fatti piano piano sono stati fatti dei lavori di upgrade senza stravolgere quello che è la originalità della vettura quindi andiamo a vedere nello specifico ad esempio partiamo dal retro in questa macchina sono stati cambiati i fari perché all'inizio la parte superiore aveva le frecce arancioni mentre questa ha le frecce brunite tanto per avere un piccolo dettaglio però il faro è perfettamente uguale all'originale abbiamo messo i distanziali per allargare un pochino più la carreggiata questi sono cerchi M quindi rispetto agli originali il cliente aveva già cambiati i cerchi quindi mettendo i distanziali da 16 mm li abbiamo portati proprio a filo a filo della carrozzeria poi diciamo altre chicche estetiche le maniglie sono state sostituite erano nere sono state prese sono degli accessori dell'epoca si trovano ancora adesso cromate così come è stato sostituito il volante rispetto a quello di serie che era un pochino più grossolano un pochino più grosso anche come struttura adesso dobbiamo solo sistemare il fatto che è rimasta la spia dell'airbag accesa dobbiamo trovare il perché dobbiamo spegnere la spia all'esterno e all'interno è stato fatto un detailing perfetto la macchina si presenta veramente parla da sé come si suol dire all'esterno è stato fatto un detailing di carrozzeria quindi pulizia integrale lucidatura e trattamento nanotecnologico quindi a livello di carrozzeria la macchina è intonsa perché non ha un graffio sembra uscita così dalla dalla fabbrica a livello meccanico abbiamo appena montato un terminale della super sprint molto bello si vendono proprio i due terminali super finta super spinta un'azienda con la quale noi collaboriamo da tantissimi anni ed è forse l'unica al di là della vastità di articoli che nessun altro fornitore può può vantare al di là di alcune tipologie di parti di scarico parliamo dei collettori di scarico almeno in italia solo la super se io dovessi ricercare un collettore di scarico o vado a trovarlo dalla super sprint o non lo trovo poi i terminali centrali queste cose li fanno un po tutti diciamo che quello che contraddistingue di là della qualità di di ottima fattura del di tutta la componentistica è il fatto che loro hanno una sezione su alcuni marchi tipo bmw dove c'è bmw classic mercedes classic porsche classiche a memoria non mi ricordo esattamente tutti comunque che in questo caso bmw siamo andati a ricercare nella sezione bmw classic e abbiamo trovato ancora oggi un bellissimo terminale a doppia uscita che viceversa sarebbe stato impossibile da trovare adesso vi faccio sentire il sound direi che il sound è più che eccellente questo è un terminale racing e quindi non ha l'omologazione ecco perché suona in maniera così corposa comunque super sprint fa le due versioni sia la versione racing che la versione diciamo più street legal però chiaramente il risultato sarebbe stato leggermente inferiore ovviamente sono macchine che si usano non frequentemente quindi il fatto di avere un terminale difficile che uno vada sotto vada a controllare se ha la stampigliatura dei numeri comunque noi quando vendiamo il terminale proponiamo al cliente le varie soluzioni e poi il cliente stesso che decide quale farci montare e deciderà dove utilizzarla o nei luoghi dove appunto è consentito quindi ripeto super sprint l'unica che produce questo genere di terminale si vede anche nelle finiture direi assolutamente perfetto non c'è mai deluso quindi andiamo avanti con loro nella collaborazione fin tanto che andremo avanti sono 36 anni che collaboriamo quindi non pochi l'ultimo appunto che farei diciamo che la macchina è perfetta addirittura il cliente ha sostituito il parabrezza anteriore mi ha spiegato ma non tanto perché era rotto perché aveva dei piccoli segnini ovviamente dati dalla col fatto che la macchina è bassa dei piccoli segnini che in autostrada inevitabilmente arrivano sul vetro e quindi qualche rigatura qualche macchina lui la voleva perfetta ha cambiato il vetro originale bmw c'è la stampigliatura la di fianco l'ultimo lavoro che dovremmo fare è cambiare il vetrino qua della capote cambiare il vetro della capote e soprattutto la guarnizione di chiusura perché in questo caso sta dando segni di cedimento quindi è una una delle cose che dobbiamo ripristinare una volta terminato questo cliente fa la sua normale manutenzione andrà ai suoi raduni e questo è uno degli appagamenti migliori anche una macchina storica non ho tanto tempo per farlo ma quando vado mi dà soddisfazione andare ai raduni e chiacchierare con delle persone appassionate di quel determinato marco di quella determinata vettura io direi che anche per questa Z319 è tutto per oggi vi invitiamo a contattarci telefonicamente allo 027383175 da lunedì a venerdì vi invitiamo a consultare il sito www.9milagiri.it dove ci sono 3600 schede vettura oltre a tutte le informazioni su tutti i servizi che noi proponiamo da 35 anni quello che vi chiediamo è cliccare in basso a destra sulla campanella soprattutto iscrivetevi al canale perché ci date una mano veramente a crescere per noi è uno sforzo questo di fare tanti filmati per cercare di diffondere un po' questo tipo di cultura e far vedere la qualità del lavoro che noi che noi facciamo quindi più siete più vi iscrivete più ci date la possibilità di crescere anche a livello di volume di dimensione nostro canale per il resto è tutto un saluto alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti